Per noi è una scommessa, Futuro Film Festival esiste da 15 anni, è sostanzialmente una manifestazione culturale che presenta il meglio che ogni anno viene prodotto in ambito digitale, effetti speciali, ma anche animazione e ovviamente non solo, quindi videogame, da qualche tempo anche app e tutto quello che ruota attorno al mondo del digitale. Da diversi anni abbiamo lavorato con le attività produttive della Regione Emilia-Romagna per ragionare sull'internazionalizzazione del festival in ottica professionistica, cioè rivolta ai professionisti, abbiamo lavorato ovviamente con gli assessorati alla cultura della Regione, Provincia e Comune per costruire tutta la parte di contenuti, ma abbiamo pensato che dopo 15 anni fosse arrivato il momento appunto di proporre un appuntamento legato e quindi in contemporanea con Futuro Film Festival ma più dedicato proprio ai professionisti. Quindi Exhibition and Conference, cioè tutta la parte di panel sarà all'interno di Expo Pixel, quella tradizionale di Futuro Film Festival, ovviamente molto più tagliata sul lato professionale, quindi molti più incontri, workshop, pitching, tutti strumenti utili ovviamente a chi lavora in questo settore, e una parte di Exhibition, quindi una vera e propria parte fieristica. Questo ripeto è nato all'interno del festival anche come proprio richiesta ed esigenza sia di ospiti stranieri che italiani che di professionisti che ogni anno via via hanno partecipato al festival e l'hanno fatto anche crescere. Abbiamo scelto queste quattro parole per identificare Expo Pixel, Exchange, Experience, Explore, Explain, sono quattro parole con quattro veramente frasi molto semplici che sono delle domande alle quali vogliamo rispondere con Expo Pixel. La prima, quella che ovviamente è la più sentita da tutti gli operatori e cioè quali sono gli strumenti per il sostegno alla produzione di digital entertainment, perché chiaramente io faccio contenuti ma come faccio a farli, dove sono i soldi, dove sono le risorse, come faccio a costruire il mio modello di business. Experience, quali sono i contenuti per le nuove produzioni e come fare networking ed è tutta la parte ovviamente di chi ha un progetto ma deve trovare anche collaborazioni, quindi coproduzioni e come si integra la produzione di fiction animata con i nuovi media. Questo perché? Perché il Futuro Film Festival è basato sull'animazione e chiaramente anche nel panel di oggi vedremo che non solo di animazione si parla in Expo Pixel ma di tutta la filiera del digital media e del digital entertainment. Quali sono le tecnologie e i software per la produzione di contenuti digitali? Perché anche con l'arrivo adesso non solo del web, delle app, degli ebook ma anche della tv digitale e quindi delle app per la televisione cambia anche lo strumento che devi usare, quindi la modalità per produrre te la dicono e te la danno anche i costruttori di software e anche quelli di hardware. Che potenzialità offrono le nuove realtà multipiattaforma? Quindi ok io faccio un contenuto voglio però cambiare il mio modello di business perché per come faccio adesso il mio contenuto non riesco ad arrivare alla quadratura del cerchio o a guadagnare quindi ok cambio, io cambio il mio modello di business, mi rivolgo ad altre piattaforme, faccio altri contenuti ma in che modo riesco a ottimizzare a ottimizzare questo, cioè quali sono le vere potenzialità sia di contenuto ma anche di revenue che mi danno questi famosi nuovi media. Quello che abbiamo voluto fare quindi è una fiera, un incontro B2B dedicato ai professionisti che non fosse semplicemente una serie di convegni ma fosse effettivamente per la prima volta un incontro tra professionisti, tra chi fa app, tra chi fa magari il restauro digitale, tra chi magari invece produce un contenuto di una serie animata e chi fa per esempio ebook. Incontrarsi vuol dire scambiarsi contenuti ma anche appunto modelli produttivi, questo vogliamo proporre a una platea quindi di professionisti non solo italiani chiaramente ma prima di tutto ci teniamo ovviamente molto ai professionisti italiani. Come sta cambiando il contesto internazionale probabilmente molti se ne rendono conto anche nella vita di tutti i giorni, che cosa ci ha spinto sempre di più a pensare a questo format per Expo Pixel? Sono direi dei case history anche molto banali e semplici ma che io vi cito perché credo che possano essere anche un punto di partenza poi per un ragionamento che verrà fatto nel corso del panel di oggi. Voi forse tutti conoscete l'app Fruit Ninja, è un'app molto semplice, è un giochino, devi distruggere della frutta con le mani, attraverso questo fai dei punti. È veramente un giochino stupidino però questo giochino si compra online, tantissime persone l'hanno scaricato, ci hanno giocato ed è diventato un po' un must, tanto che la DreamWorks per promuovere il gatto con gli stivali ha deciso di adottare questa app e di promuovere il gatto degli stivali attraverso una nuova release del giochino. Io lo chiamo giochino ma in realtà questo fa parte di un discorso appunto di cambiamento dei modelli di business, questa società l'Alfbrick ha costruito ovviamente anche altre app ma con questa diciamo che ha sfondato, poi i motivi possono essere vari e da questa è arrivata a collaborare e a lavorare a suo modo e proponendo addirittura un suo contenuto alla fine alla DreamWorks. Per cui ecco, questo anche vedere le cose proprio da un altro punto di vista è molto interessante e sarà una delle caratteristiche di ExpoPixel. Ancora un altro esempio, ancora più banale, Angry Birds, lo conoscete tutti, un altro giochino chiamiamolo così, un gioco appunto in cui questi uccellini devono essere, devono distruggere determinate cose, quindi si ha una piccola fionda, è sempre un gioco touch, per cui con questa piccola fionda si lanciano questi uccellini e si distruggono varie parti del mondo, vari scenari. Quindi questo giochino, anche questo era messo in vendita ed è attualmente uno dei più scaricati al mondo, quindi non stiamo parlando di mercato Italia o Stati Uniti, io faccio un discorso globale anche perché ormai anche per le nuove tecnologie ma anche indipendentemente da questo bisogna pensare globale. E appunto Angry Birds adesso, che ha avuto così successo e quindi probabilmente che ha avuto un guadagno molto forte da quello che ha fatto e cioè vendere questo gioco, ha deciso di produrre una serie animata. Quindi dall'app alla serie animata, non viceversa. E è in programma anche la produzione di un lungometraggio di cui non si sanno esattamente i tempi, forse due o tre anni di produzione. Ma sicuramente entro la fine del 2012 appunto ci sarà la prima serie animata, quindi che andrà sui canali tra virgolette tradizionali come può essere la televisione. Ultimissimo caso, Fantastic Flying Books di Mr. Morris, lo conoscete probabilmente tutti perché è un corto che ha vinto l'Oscar quest'anno nella sezione animata, ma in realtà è un corto tratto da un ebook. Di nuovo è una novità estremamente interessante il fatto che per la prima volta di fatto un ebook vinca un Oscar del cinema perché è stranissimo e anche qui è un ribaltamento di tutta l'industria perché gli Oscar invece sono fortemente basati su un'industria tradizionale cinematografica, in questo caso americana.